La leader di Fratelli d'Italia rilancia l'idea presidenzialismo e propone un'assemblea costituente con le prossime elezioni per rifondare il paese. Rifondare l'Italia su un modello diverso, il presidenzialismo. Il nuovo obiettivo di Giorgia Meloni è questo. Dopo l'ascesa del suo partito Fratelli d'Italia nei sondaggi, fino alla testa delle intenzioni di voto. Anche se ora è calato leggermente dietro il Partito Democratico nelle proiezioni, la deputata romana punta a cambiare le istituzioni. Se vogliamo riforme importanti si parte dal presidenzialismo ha spiegato intervistata da Corriere.it Il popolo e i cittadini devono tornare a contare, negli ultimi tempi il loro voto ha contato troppo poco. Su questo possiamo compattare il centro-destra. Sono a favore dell'elezione di un'assemblea costituente con le prossime elezioni per rifondare l'Italia. Nell'intervista a Tutto Campo, Meloni ha commentato ovviamente anche i fatti più d'attualità. Uno su tutti la proroga dello stato di emergenza, non sono d'accordo, se dura più di due anni è un controsenso logico e linguistico attaccato. Io credo che il governo oggi debba riuscire a combattere l'epidemia ripristinando i diritti, comincia a crearsi un problema per la democrazia. Poi ha precisato la sua posizione rispetto ai vaccini contro il Covid. Se fossi stata Novavax l'avrei detto, ma sono vaccinata. Ha sottolineato questo però non vuol dire che non si possano fare delle domande sulla copertura vaccinale. Meloni ha detto anche di non essersi data obiettivi di carattere personale, ma ha sottolineato come il suo partito sia affidabile e coerente. E sull'equilibrio in coalizione ha precisato, non abbiamo bisogno di porre la questione di chi sarà il leader del centro-destra, lo decidono gli italiani con la leadership del partito che prende più voti. Con Salvini e la Lega stiamo insieme per scelta, non per costrizione, vogliamo governare l'Italia insieme.